Tre cittadini indiani sarebbero stati sequestrati da alcune persone originarie del Pakistan in pieno centro a Trieste. Il fatto risale alla serata di sabato e ora la squadra mobile sta indagando. Sì perché gli investigatori hanno preso sul serio la denuncia fatta da una donna indiana nelle prime ore di ieri. I parenti di lei erano venuti in visita a Trieste per passare del tempo assieme ma improvvisamente sono spariti. Motivo per cui è scattato l'allarme ma c'è di più. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra emittente i tre malcapitati sarebbero stati rapiti proprio da quei cittadini che avrebbero dovuto ospitarli. Tutto quindi fa supporre che vittime e sequestratori si conoscessero già. Il sequestro sarebbe avvenuto in piazza Oberdam e le persone rapite portate in un luogo nascosto. Secondo indiscrezioni la donna che attendeva ad incontrarsi con i propri cari avrebbe ricevuto una richiesta di riscatto di circa 15.000 euro da parte dei presunti sequestratori per liberare i parenti. Le forze dell'ordine dopo aver assistito la donna mentre formulava la denuncia hanno avviato subito le ricerche con il tracciamento dei cellulari delle vittime del sequestro nel tentativo di localizzarle. Continuano a Trieste gli episodi violenti che vedono protagoniste persone straniere. Dai fatti di cronaca di micro criminalità alle violenze per il controllo del territorio come avvenuto poco più di un mese fa con l'aggressione con coltelli e taser in mola udace, episodio che ha portato all'arresto di cinque cittadini afghani. Questa volta si parla di sequestro di persona con richiesta di riscatto. Le indagini della squadra mobile proseguono sotto il massimo riservo.